La situazione delle TV locali è terribile perché per effetto di un vero e proprio pasticcio legislativo ci si è accorti che non ci sono le frequenze per tutti e che quelle attualmente in uso provocano delle interferenze con gli stati confinanti e quindi devono essere lasciate. Questo può comportare la chiusura di quasi 150 emittenti locali mettendo anche a repentaglio a rischio quella che è la posizione lavorativa di oltre 2000 persone, ma il Paese è distratto. Lei cosa ne pensa e come spiega il disinteresse dell'opinione pubblica italiana a riguardo? Questo è un momento difficile nel quale ognuno è concentrato sul suo problema ed è un momento rischioso perché ovviamente noi possiamo commettere in quest'ottica degli errori dei quali poi ci accorgeremo solo negli anni a venire. Le televisioni locali, così chiamate, sono in realtà una sorta di colonna vertebrale della democrazia e della comunicazione aziendale delle piccole e medie imprese e entrambe hanno consentito ad alcuni territori, entrambe queste funzioni, hanno consentito ad alcuni territori di crescere civilmente ed economicamente. È chiaro che l'avvento dei nuovi media, il web, le informazioni che vanno sugli smartphone mettono in crisi, persino l'informazione, quella di quartiere, chiamiamola così, che era poi il pezzo forte di queste televisioni, però io credo che secondo la legge famosa di McLuhan nessun nuovo media esclude il precedente e le televisioni locali avrebbero la possibilità di interconnettersi con i nuovi media dando un servizio ancora più completo e consentendo la gorà, la gorà della partecipazione politica, economica, l'informazione, anche la diffusione di messaggi e di azioni creative, mi immagino per esempio tutti i gruppi musicali o artistici che potrebbero attraverso le televisioni locali promuoversi in un contesto che se fosse solo nazionale gli lascerebbe ben poche speranze. Ecco, questo è il patrimonio che va salvaguardato, ovviamente secondo me con un accordo favorito dal governo che ovviamente spieghi anche ad alcune di queste televisioni che le dimensioni troppo piccole rischiano poi di essere un ostacolo a questo processo, però evidentemente non si può abbandonare un settore intero e non si può pensare che l'informazione possa essere oggetto solo del duopolio RAI Mediaset. Ecco, sicuramente delicata è la situazione delle TV pugliesi proprio perché la regione confina con i paesi adriatici, qual è la prospettiva? Innanzitutto forse bisognerebbe approfondire meglio la relazione anche con quei paesi, perché è possibile anche che la possibilità di captare le nostre trasmissioni da parte di paesi trasfrontalieri possa persino essere un vantaggio se noi abbiamo comuni interessi economici, turistici e culturali. Però è evidente che se c'è un problema tecnico insuperabile, se qui non è un problema di domini, ma è un problema proprio di interferenze, bisognerebbe da un lato studiare se esistono rimedi tecnici anche consentendo degli investimenti particolari per manutenere meglio i canali messi oggi a disposizione delle televisioni locali, oppure se ci sono prospettive di accordi un po' meno drammatici di quelli che si prefigurano. Certo, quello che non si può fare è abbandonare tutti al proprio destino e soprattutto non vorrei che qualcuno approfittasse di questa situazione per rendere il conto a quella democrazia anche un po' scomoda che spesso le televisioni locali hanno assicurato agli italiani. Avete in programma di agire proprio in difesa di imprese e occupazione? Ci sono delle iniziative concreti allo studio? Ovviamente noi attendiamo e ci eravamo ripromessi di farlo, anche eventi come quello al quale io purtroppo non posso partecipare e nel quale interverrò attraverso questa intervista, di avere le idee più chiare, soprattutto sulle intenzioni di questo mondo che noi intendiamo comunque sostenere. La Regione Puglia è perfettamente consapevole di custodire alcune delle più importanti televisioni locali d'Italia, siamo perfettamente consapevoli che non possono essere lasciate al loro destino e che è nostro dovere rivendicare per loro un diritto all'esistenza che in questo momento è minacciato da errori che peraltro non sono imputabili né alle Regioni, né alla Puglia, né tantomeno a queste emittenti. Ecco, lei come valuta proprio lo standard del prodotto delle TV Pugliesi oppure se preferisce guardando complessivamente a ciò che fanno e quindi anche agli utenti? Per quale motivo vale la pena difenderle? Io ho fatto per quasi 20 anni il magistrato e quindi mi ricordo quanto sono state importanti queste televisioni per costruire una coscienza antimafia in una Regione che ha combattuto e vinto la sua battaglia di contrasto alla criminalità anche grazie a coraggiosi giornalisti che rischiando anche improprio in ogni comune della Puglia si sono attivati per sostenere l'attività delle Forze dell'Ordine. Poi ho fatto il Sindaco per 10 anni e avevo trasmissioni importantissime nelle quali addirittura si rispondeva in diretta e si veniva informato in diretta dai cittadini dei problemi e soprattutto era un permanente forum di critica o di sostegno a seconda della resa dell'amministrazione che è stata secondo me molto utile di stimolo, di sostegno anche quando, sono state tante le volte in cui io mi sono anche arrabbiato perché è normale che un soggetto dell'informazione possa non essere d'accordo ma nonostante queste arrabbiature tra virgolette non ho cambiato opinione sul significato di queste, sul significato della democrazia dell'informazione. Ovviamente temo che tutto questo piccolo mondo, che poi tanto piccolo non è perché abbiamo detto non solo ci sono 2 mila persone che ci lavorano ma fino a che la crisi non ha falcidiato le piccolissime e medie imprese era anche un fatturato molto importante. Adesso non vorrei che qualcuno approfittasse di questa congiunzione astrale negativa tra crisi economica e errori sull'assegnazione delle frequenze e pensasse di liberare il mercato da una certa concorrenza. Io vedo già le tv satellitari che approfittando, che pure rendono un servizio importantissimo, che già si inseriscono attraverso le partite di calcio anche della serie B, si inseriscono nel mercato della pubblicità locale. Anche quello andrebbe regolato, nel senso che chi ha la possibilità di parlare al paese intero dovrebbe avere forse qualche limite nel fare pubblicità anche in sede locale, perché altrimenti noi costruiamo dei monopoli che poi saranno inscalfibili, perché poi è noto che i politici nella relazione con le grandi emittenti nazionali sono sempre molto attenti a non compromettersi. Ecco, infine alla luce proprio di tutte queste considerazioni fatte, quale può essere la sua proposta concreta? La mia proposta è quella di innanzitutto tentare in tutti i modi di lasciare e razionalizzare queste benedette frequenze e fare un lavoro che non giustizi in maniera irrazionale il lavoro di tanti anni da parte di tanti imprenditori coraggiosi che si sono alle volte giocati tutto per costruire queste emittenti. E dall'altro lato, se ci sono delle situazioni non rimediabili da questo punto di vista, si trovino delle frequenze alternative, eventualmente favorendo con degli incentivi le unificazioni tra le televisioni, che peraltro secondo me creare un network un po' più vasto di queste televisioni dal punto di vista strategico verso il futuro non è neanche un errore, è una cosa positiva che potrebbe dare a loro la possibilità di diffondere messaggi pubblicitari o di avere notiziari assai più completi. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.